Buongiorno a tutti, mi chiamo George, io sono dottorando di Università di Genova e collaboro con GTER nell'ambito di progressione di GNSS, soluzioni di posizionamento GNSS e inerziali e oggi facciamo un piccolo geobreak sul tema di G-Lab, un software proprio per la progressione e analisi di GNSS. Ok, lascio che condivido il mio schermo. Ok, adesso dovreste vedere il mio schermo. Ecco qui, G-Lab. G-Lab è un software sviluppato da Gage, Research Group of Astronomy and Geomatics, di Università di Catalonia, in Spagna. Quindi è un software principalmente non industriale, ma più di ricerca. Un software sviluppato proprio per la processione e comparazioni di diversi modi di processione dei dati, pre-processing, post-processing, diversi approcci e così via. Prima di tutto, prima di iniziare proprio, vi dico che G-Lab ce l'ha il suo sito web, quindi se siete interessati poi potete trovare tutte le informazioni che vi interessano lì. Per approfondire quello che volete sapere e utilizzare questo software con più efficienza. Quindi, semplicemente cercando G-Lab su Google. Ah, semplicemente cercando G-Lab su Google. Vabbè, qua magari non è il primo risultato, ma lo potete trovare comunque. C'è anche questo sito web, gauge.s, che è il sito di Research Group of Astronomy and Geomatics che ha proprio sviluppato questo software. Quindi, se vi interessa il loro lavoro, potreste guardarlo qui. E poi, infatti sì, G-Lab è qualcos'altro che ci dà qui. Quindi, possiamo guardare G-Lab GNSS. E ecco qui il sito. G-Lab Tool Suite. E qua potete trovare tutte le informazioni, potete scaricarlo da qui. Potete trovare tutti i tutorial. Quindi, infatti, oggi non facciamo tutorial. Facciamo solo un'introduzione molto piccola a questo strumento. Quindi, se volete sapere di più di come si usa, di possibilità che potete usare, vi conviene fare questi tutorial qui, fatti proprio dai sviluppatori di questo software, da Università Politecnica di Catalunia. Però, adesso, guardiamo un po' di più l'interfaccia e le cose che ci permette fare. Quindi, prima di tutto, vediamo che G-Lab ha alcuni modi di funzionamento. Il modo primo è quello principale, direi, è positioning. Quindi, quello che vi permette di fare proprio il posizionamento. Processione di dati GNSS. Usando template diversi. Da default, adesso, abbiamo il template SPP, quindi Single Point Positioning. E qua, nella tabella di input, ci propone di entrare i nostri file di observation e di navigation. Observazione e navigazione. Quindi, io ce l'ho qui alcuni file che posso usare per quello, solo per vedere cosa ci dà come risultato. Quindi, io ho messo qui un Linux Observation File e un Linux Navigation File di nostra stazione di riferimento che abbiamo a Genova. Possiamo scegliere alcune altre cose, tipo, possiamo metterci Start Time, End Time. Se non lo mettiamo, lo mette automaticamente all'inizio e alla fine di observation, ovviamente. Poi, se vogliamo, possiamo impostare anche il file di antenna, però io adesso non ce l'ho, quindi non lo faccio. E poi, avendo impostato tutto, possiamo fare RunGLab. E così facciamo la processione con le impostazioni che abbiamo messo. E poi c'è Show Output. Output automaticamente viene scritto nel file Out, però possiamo anche visualizzarlo. Eccolo qui, glab.out. E qua ci dice l'informazione di quello che è stato fatto, quindi alcune informazioni preliminari, tutte le informazioni sui impostazioni che abbiamo messo, come, ovviamente, ci sono tanti impostazioni, perché, infatti, si possono impostare anche manualmente. Però noi abbiamo usato un template, quindi tutto questo, tranne i file che abbiamo usato, è stato impostato automaticamente. E poi vediamo proprio i dati. A sinistra si vede se questo è Input. o Output o Model. Informazioni su tutti i satelliti che abbiamo visto. E così via. Poi, alla fine del file, possiamo vedere le informazioni generali, tipo First Epoch, Last Epoch, il numero totale delle epoche processate, il numero di data gaps, informazioni su DOP, Dilution of Precision, P-DOP, G-DOP, C-DOP, così via. E quindi abbiamo le informazioni sia nel tempo che anche statistiche. Questa è una time sequence molto corta, diciamo così, per farlo un po' più semplice. Poi, ovviamente, nella tabella di input, abbiamo anche le cose da impostare. possiamo usare, ad esempio, opzioni S-Bus, e così ci da un working, dice che S-Bus Template in the upper bar will set up the default configuration options. Quindi, se vogliamo avviare S-Bus, ci fa un altro template, che infatti è trovato qui, S-Bus. Eccolo qui. E ci propone di entrare anche il file di S-Bus. Poi, possiamo anche scegliere come opzione DGNSS, Differential GNSS, così abbiamo un posto per inserire un file di reference station, per fare, ad esempio, post-processing kinematics o qualcosa del genere. Poi, come input, abbiamo anche varianti, per INEX, oppure RTCM. Possiamo anche, se vogliamo, inserire un file più preciso di errori ionosferici, come IONEX, oppure S-Bus sempre, oppure usare S-Bus Navigation, Broadcast. E poi, altri file auxilari. Ovviamente, le cose più generali possono essere impostate usando i template. Quindi, come abbiamo già visto, per SPP, ad esempio, abbiamo solo Observation e RINX Navigation file. Per PPP, invece, abbiamo anche altre opzioni, come qui ci propone di inserire il Precise Orbital Clock file, SP3. E' anche molto conveniente, perché, infatti, quando fate così, c'è un po' di hint qui, che vi spiega un po' meglio cosa si può fare, cosa si deve fare. Ad esempio, se io non mi ricordo cosa sia SP3 file, SP3, così mi dice che è Precise Orbital Clock file, e così via. Posso scegliere anche due files, così ce l'ho un posto per SP3 e un posto per Clock file. Poi, come ho già detto, ci sono opzioni, ci sono i template SBUS, per cui abbiamo anche qui il posto per SBUS file, ci sono opzioni per differential GNSS, e abbiamo RINX Observation file per reference station, ad esempio. E sono parti di template più o meno tutto, quindi vediamo cos'altro si può impostare qui. Nella tabella pre-process, nella scheda pre-process, abbiamo anche delle impostazioni, proprio quelli che abbiamo già visto impostati, ma però non sono stati impostati da noi, sono quelli automatici, quindi se vogliamo possiamo cambiarli. Data Decimation, Cycle Sleep Detection, e così via. Qua, sulla parte destra, Elevation Mask per i satellite, per i satelliti, se vogliamo possiamo impostare anche SNR Mask sul rapporto segnale-rumore, poi, Carrier Phase Measurement with Code, tutte altre cose, e poi possiamo vedere quali satelliti scegliamo e non scegliamo, All, None, e possiamo farlo anche in modo più individuale. Questa parte, Genesis Satellite Selection. Poi, ok, la parte Modeling, che, qua sono delle opzioni un po' più precisi di come viene modellata la processione di GNSS, ad esempio qua, possiamo impostare delle cose, come considerare la rotazione della Terra, Durian Signal, durante il tempo di trasferimento di segnale, e così via, scegliere il modello per correzione ionosferica, come Clobu Char, NEC Week, o qualcos'altro, anche correzione antroposferica, e così via. Poi, la parte Filter, che sono, possiamo scegliere se usare solo Pseudorage Measurements, o anche Pseudorage, più Carrier Phase, e altre impostazioni di questo, anche dei filtri su DOP, Dilution of Precision, e scegliere anche delle cose importanti, come Receiver Kinematics, se il ricevettore è statico o cinematico, il numero di frequenze che usiamo, e poi, ad esempio, stimare Wet Troposphere, Residual, altre cose, quindi un po' di impostazione più precise. più precise. E alla fine abbiamo una scheda per impostare l'output, quindi, dove vogliamo metterlo, il formato anche, quindi se, perché da default, abbiamo solo il file, glab.out, quello che abbiamo già visto qui, con Show Output, che infatti è semplicemente un file di testo, però se vogliamo, possiamo anche esportare, che è mail file, e sp3 file, e così via, se vogliamo, ovviamente. Poi possiamo anche impostare quali messaggi sono inclusi nel nostro output, come ad esempio, qua, nel nostro output, sono inclusi tutti questi, però, in teoria, se voglio, posso mettere semplicemente solo output, e vediamo cosa viene cambiato, nell'output. in teoria, eh, infatti, i output qui non ci sono, perché io ho cambiato qualcosa, nelle impostazioni, che adesso non mi viene fuori, il risultato. Ah no, infatti, eccolo qui, output, eccolo, qua su. E poi, anche il summary, quindi a posto di tutto quello che c'era, tutti i input, messi qui, tutti i model, tutto quello è stato cancellato, adesso, l'unica cosa che esporta è, l'output, e alla fine anche, summary, quindi informazioni generali sulla processione. Ecco. ma questo è solo un modo di G-Lab, che è positioning, perché si può in generale usare anche analysis, ad esempio, analysis è il modo più, il modo principale per plottare i dati, i risultati, per visualizzare, praticare le cose, ad esempio, e anche qui si può impostare le cose manualmente, o si può usare dei template, come qui, not his top position in error, e tutti i campi sono, sono popolati automaticamente, e possiamo plottare il nostro errore di posizionamento, però adesso non... ah, ecco qui, ecco, quindi c'è un grafico, dove possiamo vedere il nostro North East Up Error, e nello stesso modo possiamo graficare quasi tutto che ci serve, ad esempio Satellite Sky Plot, se vogliamo, però non capisco perché qui non c'è, non ci sono, magari ho cambiato qualcosa nelle impostazioni, adesso non lo posso, perché per quello è meglio guardare i tutorial ufficiali sul sito, però vediamo se posso graficare l'illution of precision, quindi dopo, ok, ecco, i dop ci sono, i dop ci vediamo, vediamo anche che prima sono più piccoli, poi salgono, quindi nello stesso modo si può graficare quasi tutto che ci serve, poi, converter, è una cosa che ci permette di fare la conversione di file di GNSS, ad esempio, così si può fare conversione di Sbass file, in alcuni formati di output, Rinox, Top, oppure EMS, o Pegasus, c'è anche RTCM Converter, che ci permette anche di convertire i file RTCM in formato Rinex, quindi è un'altra parte del programma abbastanza utile, poi, opzione di Compare Orbits and Clocks, Cioè, ad esempio, se noi abbiamo due navigation file, in questo caso, di due stazioni diversi, io posso farlo adesso, perché io ce l'ho navigation file della stazione di base a Genova, e anche un navigation file del nostro ricevitore che abbiamo testato, quindi se io prendo due navigation file, posso visualizzare, non visualizzare, ma comparare quelli. e qui c'è un file di comparazione, dove ci dice principalmente che questo info è, che è il modo di funzionamento, è Compare Orbits and Clocks, e poi c'è proprio SatDiff, quindi differenza di satelliti, nelle epoche, quindi è un altro modo di funzionamento, e poi, qui alla fine, SatStat, quindi delle statistiche, ovviamente tutto questo è anche impostato qui, quindi qua si mette cosa viene printato nell'output file, printinfo, printsatstat, printsatdiff, printsatstat.tot, e così via. Direi che un drawback è quello che, alcune cose non sono molto intuitive, quindi per capire quelli, veramente è meglio andare nella documentazione. Poi Show Orbits and Clocks, vediamo cosa c'è qui. Sempre usiamo un navigation file, ad esempio questo, sempre della nostra stazione di base, e vediamo cosa c'è. ci fa vedere proprio l'informazione sul movimento dei satelliti, quindi Satellite PVT, Satellite, cioè Position Velocity Time, abbiamo il tempo qui, e qui, un'altra cosa che non è molto intuitiva, è quello che purtroppo, in questa tabella di output, non ci fa vedere cosa vogliono dire le colonne, quindi si può solo pensare di questo, ad esempio qui, ovviamente questo è l'anno, poi di questo, io non sono già così sicuro di cos'è. Più probabile che, può essere la settimana dell'anno, perché qui vediamo che magari ci sono tre variabili del tempo, cioè anno, e poi ce l'abbiamo ancora due, quindi magari sono settimane dell'anno, e poi giorni della settimana, non come, ma sì, è più probabile quello. Poi, la costellazione, che nel nostro caso è sempre GPS, a spenso, il numero del satellite, quindi queste cose, tipo 23, e poi, sono proprio la soluzione PVT, quindi i dati dell'orbita, quindi, questi sono delle coordinate, nel sistema Earth Centered, credo, poi la velocità, anche tre variabili, e l'ultima cosa, è il tempo. Quello era il modo di show, orbits and clocks. Vediamo che, infatti, in tutti i modi, tranne, no, ok, in modi di converter, di compare orbits and clocks, show orbits and clocks, i template, non sono raggiungibili, perché questa cosa, è principalmente per, posizionamento, poi, infatti, per non impostare tutto, dall'inizio, ogni volta, c'è un'opzione di salvare, e poi caricare, i file di configurazione, save configuration file, load configuration file, che è molto utile, in questo caso, poi, delle cose, abbastanza piccole, come, preferences, ci sono solo due, showglab header, che, ci fa, o non fa vedere, questa cosa, però, io ve la faccio vedere, per farvi ricordare, che ha sviluppato, questo software, poi, show tool tips, tool tips, sono principalmente, quelle cose, che, che ci dicono, sono proprio dei tips, su quello, cosa fanno, delle cose, quindi, adesso, se io faccio così, con il corsore, io non vedo più, cosa vuol dire, cosa vuol dire, sp3, magari, se siete molto esperti, veramente, non vi serve tutto questo, solo un po' di distrazione, però, infatti, secondo me, io li trovo abbastanza utili, anche perché, ad esempio, qui, per file sp3, non solo vi dice, cosa, vuol dire, sp3, ma vi dice, anche, dove, dove potete trovarlo, e questa è l'ultima cosa, che secondo me, molto, utile, in g-lab, e help, come in ogni pezzo di software, dove potete vedere proprio tutto, about g-lab, cioè, un po' di informazione su cosa sia g-lab, contatti, crediti, come, how to reference, g-lab, i manuali, per tutti i template di processione, che abbiamo visto, come SPP, PVP, SBAS, DGNSS, tutto questo, e sono abbastanza grossi, quindi, se andate qui, vedete che, non è un manuale piccolo, e, sono, 148 pagine, però, questo vuol dire, che lì, potete trovare, veramente, tutto, da ogni pezzo, di interfaccia, a quello, come vengono processate, i dati, quindi, se vi servono, più informazioni, su come usare, questo software, è molto conveniente, che i manuali, sono, sempre qui, poi, c'è, l'ISNOTE, e, un'altra cosa, utile, cioè, dei link, sui siti, dove si possono trovare, dei file, di dati, come ad esempio, se, se mi servono, dei Linux Observation File, version 3, mi fa vedere, proprio, dei link, dove posso trovarli, delle stazioni fisse, la stessa cosa, Precise Files, e mi fa, vedere, dove posso trovare, i file, sp3, clock, sinex, e così via, quello, secondo me, è abbastanza utile, perché, quando stai lavorando, nel software, e poi, capisci, che hai bisogno, di, precise files, così, non devi cercarti, però, puoi semplicemente, seguire, qualche link, andare, al sito, di NASA, trovare, delle informazioni, poi ci sono, dei tool, per fare, la conversione, dei file, cioè, semplicemente, sono dei link, agli altri, software, come questo, per fare, la conversione, formati diversi, e, altre cose, dei standard, di Rinex, se vi serve, vedere quello, e poi, ancora un po' di cose, piccole, ma ultime, come, Genesis Calendar, che, vi fa, che vi fa vedere, ad esempio, oggi, è il 7 febbraio, e ci fa vedere, che, siamo in GPS Week, 2300, che, l'anno, del giorno dell'anno, è 38, che il numero di settimane, GPS, è 2300, così via, poi, proprio qui, proprio nel GILAP, come parte dell'interfaccia, abbiamo GNSS Date Converter, quindi, magari, se per un'altra applicazione, vi serve, trovare, fare la conversione, di una data, al formato, di GPS Week, GPS Day, e così via, potete farlo, anche qui, su GILAP, senza uscire, ad esempio, oggi, facciamo, l'anno è, 2024, febbraio, oggi è, 7 febbraio, infatti, vediamo, che è fatto tutto, automaticamente, l'altra cosa, coordinate converter, che, vi permette, di fare, conversione, tra, tre, sistemi, di coordinate, cioè, Earth Center, Earth Fixed System, WGS, 84, cioè, coordinate cartesiane, poi, sistema geodetica, elesso idale, e sistema sferica, ad esempio, se mettiamo qui, più o meno, prossimamente, come longitude, 44, come latitude, 9, come altezza, 100, abbiamo anche, le coordinate cartesiane, e questo, è, prossimamente, dove siamo, a Genova, questo, è, quasi, tutto, che c'è, a G Lab, ovviamente, potete trovare, anche, più cose, perché, io ho fatto vedere, solo un pochino, l'interfaccia, ma, ovviamente, se vi interessa, potete vedere, molto di più, e, infatti, i creatori, i sviluppatori, di G Lab, l'hanno fatto, c'è, un sacco di cose, che potete fare, questa cosa, non ho visto, neanch'io, perché, è la nuova versione, che ho fatto, quindi, hanno anche un libro, su quello, su Genessus Processing, secondo me, per finire, cosa posso dire, cosa posso dire, di G Lab, è, un pezzo di software, magari, abbastanza utile, come, software di, educazione, principalmente, anche, self education, perché, se, come me, siete entrati, nell'ambito, di GMSS, da un lato, dove, non avete molta esperienza, con quella, è molto conveniente, imparare, a fare, delle cose, capire, come le cose, funzionano, usando, G Lab, perché, c'è, veramente, un sacco, di tutorial, tutte le cose, di base, si può provare, e, ci sono, dei tips, che vi spiegano, a cosa servono, file diversi, e, quindi, veramente, secondo me, è, un software utilissimo, per i principianti, non sono sicuro, se è veramente, così utile, come, software di processione, industriale, quando c'è, un sacco, di, software, sviluppato, proprio, dai produttori, dei ricevitori, come, come altri software, però, per le cose, di, educazione, e quelle scientifiche, io direi, che, questo è, un software, da ricordarsi, da usare, ad esempio, se avete, dei tirocinanti, che, non hanno esperienze, in GNSS, è una buona cosa, da fargli giocare, un pochino, per capire, un po' meglio, come funzionano le cose, cosa si può impostare, in generale, e, e cose del genere. Adesso, io fermo la condivisione, del schermo, e, io penso che, infatti, ci siamo quasi, quindi, non penso che ci sono, delle domande, quindi, a questo punto, io potrei finire. Bene, grazie, George, vi diamo appuntamento, per il 6 di marzo, al prossimo Joe Break, sempre alle, alle 9 del mattino, grazie a tutti, arrivederci. Grazie, arrivederci. a tutti, ho, a tutti, Grazie a tutti.